Ma per far cosa puoi? Eh osti non è proprio... In Italia c'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Abbiamo... Sì, è muto, si parla di più perché quello lì proprio... Abbiamo strade sterrate, case antiche Deve arrivare a un... Castelli medievali Mori di siepi Dove siamo? È ovvio, a Grazzano Visconti Andiamo a... Andiamo a controllare Vabbè non è che abbiamo fatto le prove prima Vediamo noi quelli di Zelig Una tappa Buonasera signora tappa Perché sta toccando la telecamera? Perché ci metti le mani a dos Perché me sta provocando? Perché non siamo? Beh dai Grazzano Visconti Di striscia notizia Roma Il classico Roma Quello delle nuove Grazie a tutti Grazie a tutti